La recrudescenza dei attentati compiuti nei confronti di amministratori locali in Sardegna, con le fucilate esplose contro la casa del direttore dell'Anci Umberto Opus a Mandas, l'incendio dell'auto della figlia del sindaco di Rotelli Nanino Martedio e di quelle di tre carabinieri della locale stazione o il ruogo che ha distrutto l'auto del sindaco di Segariu Andrea Fenu, hanno portato la regione ad accelerare le procedure per dotare i comuni sardi di sistemi di videosorveglianza. Su questo punto alla giunta regionale il governo erano stati sollecitati anche dal Lanci Sardegna che aveva detto che dopo gli ultimi attentati era il caso di passare dalle parole di solidarietà ai fatti concreti. La giunta regionale è proprio ieri annunciato che le procedure amministrative sulla rete di videosorveglianza per i comuni sardi è stata perfezionata e si potrà procedere così alla realizzazione di un sistema in 80 comuni e 6 unioni di comuni. Verranno implementati dei sistemi di videosorveglianza all'avanguardia tecnologica che serviranno sia da deterrente per i malintenzionati ma anche per consentire alle forze dell'ordine di avere dei dati oggettivi da cui partire per le indagini. Per il finanziamento si attingerà ai fondi europei. I comuni entro ottobre avranno la disponibilità delle risorse finanziarie e potranno bandire le gare d'appalto. Una procedura che sarà breve perché alcuni progetti esecutivi sono già stati definiti. Fin qui l'aspetto tecnologico della questione per garantire sicurezza e tranquillità da amministratori e cittadini. Serve però poi fare un passo in avanti nella crescita della coscienza civile perché senza questa nessuno strumento tecnologico, anche il più sofisticato, può assicurare il rispetto delle regole e del vivere civile.